Buongiorno, buongiorno, salve a tutti quanti, siamo qui, siamo a Formigueras con Gianni Ragona, molti e molti lingua. Gianni Ragona è il direttore di Formigueras, un italiano che ha lavorato a Sestriere e a Savoia, una persona che ha lavorato a Sestriere, nella via Latte, a Soutre d'Ush, a Montgenevre, a destra, a la destra del Montgenevre, che è venuto anche dalla Savoia, a Formigueras. Da che anno sei il direttore di Formigueras? Sono sei anni che sono qui, quindi dal 2013-2014. Dal 2013, dal 2013, fino al presente, in Formigueras è una cosa completamente nuova e differente, lavorare all'Alpi o lavorare al Pirineo? Sì, completamente diversi, gli interessi sono completamente diversi, la pressione è un'altra, per cui tutto... Rassodante, non estressante, no? Non estressante, bisogna essere professionisti, è logico, però non è estressante come in Savoia o può essere in Italia. Molto più tranquillo da lavorare nel Pirineo che nelle Alpes. Questo è meraviglioso, avete la neve, la neve naturale, la neve artificiale, ma voi volete obbligare al 4 di dicembre. Sì, non bisogna avere fretta, noi mettiamo l'accento sulla sicurezza del compressorio sciistico, le pietre sono ancora abbastanza visibili, per cui prendiamo il nostro tempo, lavoriamo la neve, anche perché la prima caduta di neve è molto importante lavorarla, perché poi la teniamo tutto l'inverno. Se la distruggiamo all'inizio perché vogliamo aprire troppo presto, la stagione diventa lunga e poi è difficile senza fondo sciistico. Gianni, è uno che opina che dovrebbe lavorare molto bene la prima caduta di neve, si dovrebbe lavorare molto bene la prima caduta di neve, affianzare, lavorare la stagione, per che quando si avrà, si avrà al 100% o almeno in le migliori condizioni, se è una persona troppo esigente. Esigente no, però oggi come oggi la sicurezza è molto importante, e la stagione è molto lunga. Sappiamo benissimo che a partire del mese di dicembre ci saranno delle giornate molto calde, se la neve non è stata lavorata al momento giusto e in maniera giusta, non terrà, per cui rischiamo di avere dei problemi per Natale, rischiamo di avere dei problemi per Febbraio, per cui questo primo fondo lo lavoriamo proprio bene, anche se prendiamo un pochettino più di tempo. Dice che a partire di dicembre e inero le temperaturas cominciano a subire un po' e che se non hai la base molto bene lavorata a livello di neve, avete spazzato lo che passa. Questo Natale per il momento si annuncia bene, per cui dal 4 poi apriamo e cerchiamo di accogliere tutti. Il puente della Purissima, assicuriamo quasi quasi neve, le navide stanno bene, è una buona epoca per cominciare a lavorare, il mezzo di novembre. Sì, sì, è ottimo, poi oggi come oggi le temperaturas non sono molto stabili, cioè si alzano, si abbassano, si alzano, si abbassano, per cui bisogna scegliere proprio il momento giusto per poter lavorare la neve. Troppo presto non va bene e troppo tardi neppure, per cui bisogna proprio scegliere il momento adeguato. Beh, bisogna lavorare la neve nel momento adeguato, a volte sube e baia un po' in questa epoca la temperatura, né prima né dopo, bisogna lavorarla nel momento giusto, perché qui avete un microclima troppo speciale. Come sempre, abbiamo sempre recuperato bene la neve, tutte le perturbazioni dell'Atlantico le recuperiamo, si fermano qua, e, effettivamente, tra di noi e le stazioni vicine, c'è sempre una differenza di 20-30 centimetri minimo. Perché in Formigueras la neve entra desde l'Atlantico, desde il Valle dei Camporells, hasta qui, e dice che sempre tiene una differenza di 20-30 centimetri con relazione a le altre stazioni della zona, perché tiene un microclima molto speciale. Gianni Raona, grazie mille per il tuo tempo, direttore della Formigueras, ci vediamo il 4 di dicembre. Con piacere. Grazie mille. Grazie. Ci vediamo il 4 di dicembre. Ci vediamo qui il 4 di dicembre.